Carissimi fratelli e sorelle, oggi, giovedì 7 luglio, ascoltiamo il Vangelo secondo Matteo 10, 7, 15. E strada facendo, predicate che il Regno dei Cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, sanate i lebrosi, cacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro, né argento, né moneta di rame nelle vostre cinture, né bisaccia da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché l'operaio ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, fatevi indicare se vi sia qualche persona degna e lì rimanete fino alla vostra partenza. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne sarà degna, la vostra pace scenda sopra di essa. Ma se non sarà degna, la vostra pace ritorni a voi. Se qualcuno poi non vi accoglierà e non darà ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa o da quella città e scuotete la polvere dai vostri piedi. In verità vi dico, nel giorno del giudizio, il paese di Sodoma e Gomorra avrà una sorte più sopportabile di quella città. Buon ascolto del commento al Vangelo di Don Luigi Meripicocco intitolato Vuoi essere vero testimone del Vangelo? Ama gratuitamente. Gratuitamente avete ricevuto? Gratuitamente date. La gratuità è la forma di testimonianza più alta del Vangelo. È qui che crolla o rimane in piedi anche la nostra credibilità di credenti e di Chiesa. Gratuito significa non cercare mai il contraccambio all'azione dell'amore, della vicinanza, della speranza. Gratuità è non agire mai per interesse, fosse anche solo quello del proselitismo. Gratuità è l'alfabeto delle persone libere, che non si sentono forti mai delle cose, ma solo del Signore che è dalla loro parte. È non confidare né i mezzi materiali, ma solo in colui che dà la forza. Non procuratevi oro, né argento, né moneta di rame nelle vostre cinture, né bisaccio da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché l'operaio ha diritto al suo nutrimento. Se questa gratuità a fondo perduto porterà meno frutto, non è compito nostro per occuparcene. Il Signore ci chiede semplicemente di agire in questo modo, come testimonianza del suo stesso amore che agisce in questo modo. Chi sprecherà questo amore gratuito sarà egli stesso infinitamente responsabile del suo rifiuto. Infatti per amare ci vogliono due libertà, una che dona e una che accoglie. Dio è impegnato nell'amore che dona e ci chiede di essere a sua immagine lì dove siamo. Amare così i nostri figli, fratelli, sorelle, amici, colleghi, gente che incrociamo anche solo una volta nella vita. Cosa queste persone poi ne faranno di questo amore? Non riguarda più le nostre possibilità, ma solo la loro libertà. Non riguarda più le nostre possibilità, ma solo la loro libertà.